Ciao ragazzi, bentornati al mio canale! Oggi postazione natalizia, come potete vedere anzi vado a presentarvi i miei due elfi pantuflo e lenticchia tra l'altro sta anche per arrivare il mio gatto lo vedo che sia il propinqua e tra un po' si eccolo, paleserà oggi vado a presentarvi una piccola clip di tutta una serie di make up 5 piccole proposte per queste feste mi avevate chiesto di fare un look per le feste utilizzando il nuovo kit di Huda Beauty, quello per le labbra e io l'ho fatto solo che poi mi sono fatta prendere la mano e quindi ho fatto anche tutta un'altra serie di proposte tutte molto facili sono soltanto appunto dei piccoli spunti che potete sfruttare e modificare a vostro piacimento e appunto per queste feste e buona visione ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.